Mazzo di fiori bianchi per ricordarla sul banco di scuola. Lo hanno lasciato stamattina i compagni di classe di Simona Dobrusci, la figlia più grande, uccisa insieme con le due sorelle, Domenica, dalla madre a Lecco. Gli studenti lecchisi vogliono in questo modo tutelarne la memoria, dopo il gesto folle e assurdo della madre. Una tragedia che ha sconvolto il paese intero. Avevo avuto modo di conoscerla, spiega il parroco di chiuso Don Adriano Bertocchi, parlando di Edlira, la mamma assassina, e pensavo fosse una donna forte e ammirevole. Il giudizio non è cambiato, solo che è stata superata da un dolore molto più tremendo. Non faccio parte della sua famiglia, però lo conosceva tranquilla, il suo marito tranquillo, rispettoso, anche lei è rispettosa, vedere una bella famiglia. Intanto ieri sera è arrivato a Lecco Baschim Dobrusci, il metameccanico albanese papà delle tre bimbe uccise, ed è stato subito interrogato dai carabinieri. L'uomo, in viaggio per l'Albania, appena informato della tragedia, ha fatto marcia indietro ed è ritornato in Italia. La moglie, Edlira Dobrusci, 37enne, ha subito confessato il triplice omicidio e da ieri è in carcere. Baschim, doppia cittadinanza, viveva in casa del fratello da quando aveva lasciato la moglie per un'altra donna, molto più giovane. Le tre bambine, Simona, 13enne, Casey, 10 anni e Sidney, 3 anni, sono state uccise a coltellate all'alba di domenica. La più grande ha anche tentato di resistere alla follia della madre chiedendo aiuto. Dopo l'abbandono di Baschim, Edlira si era trovata in gravi difficoltà economiche e proprio la precarietà economica, insieme con il dolore della separazione, potrebbero essere all'origine del suo gesto folle. I funerali non sono stati ancora fissati. Dal 1970 a oggi sono oltre 500 gli infanticidi verificati in Italia.